Il Pontefice ha ricevuto in udienza, nella giornata di sabato 7 ottobre, i membri della confraternita di Nostra Signora di Montserrat, fondata 800 anni fa, con lo scopo di estendere la devozione della Madonna. Nel suo discorso, pronunciato in spagnolo nel cortile di San Damaso, Francesco ha sottolineato come per Maria non esista lo scarto. Anzi, la Vergine è la madre di quelli che scartiamo e proprio perché è mamma, ha proseguito, sa ascoltare tante richieste, anche quando queste nascono da un cuore non coerente con se stesso. Maria è infatti donna dell'ascolto, tanto da ascoltare anche il figlio criminale. Il Santo Padre ha quindi evocato una particolare immagine, quella della Vergine di Montserrat, seduta con in braccio il bambino. Nella mano destra tiene una sfera che simboleggia l'universo. Maria è regina e signora di tutto il creato. Il Pontefice ha quindi esortato a tenere presente questa duplice vocazione della Madonna, ad essere madre di Dio e madre nostra.